ciao sono Irene e se mi vedete per la prima volta state seguendo un corso di italiano che è tutto un altro paio di maniche, è completamente dedicato alle espressioni idiomatiche che si formano con il lessico dell'abbigliamento e anche per tutte le tasche perché è gratis ciao benvenuti o bentornati in classe questa in realtà è la terza lezione di questo corso completamente gratuito se volete ricominciare dalla prima la trovate qui e anche nella descrizione del video ma non c'è un ordine cronologico preciso in questo corso potrete in ogni lezione arricchire il vostro vocabolario è un corso gratuito trovate qui le video lezioni e su bestitalianclassics.com avete la possibilità di scaricare i pdf che io uso durante le video lezioni così sono vostri per sempre e cosa fondamentale fare subito i test in modo da memorizzare veramente le espressioni che avete imparato tutto gratis nella lezione di oggi useremo solo tre parole ma vi assicuro che sono di tutto il corso le espressioni forse più comuni che vedremo sono veramente tutte molto usate per cui cominciamo subito e cominciamo dal bottone come sempre partiamo da un esempio e poi facciamo delle ipotesi sul significato gli italiani amano attaccare bottone al bar che cosa significa che bevono molti caffè che non pagano subito o che iniziano una conversazione con qualcuno che non conoscono che cosa significa attaccare bottone vediamo se avete indovinato subito la prima espressione perché attaccare bottone che è un'espressione usatissima significa iniziare una conversazione con qualcuno che non si conosce ma manteniamo praticamente la stessa espressione dove aggiungiamo un piccolissimo dettaglio e vediamo che il significato cambia leggermente ieri la mamma mi ha attaccato un bottone non finiva più che cosa ha fatto la mamma se non ha realmente riattaccato un bottone alla camicia o alla giacca attaccare un bottone significa trattenere qualcuno con un discorso lungo e noioso insegnare trasmettere dei valori come fanno tutte le mamme accusare qualcuno di qualcosa che non ha fatto beh in realtà sono tutte e tre cose che prima o poi una mamma fa sempre ma la risposta giusta è attaccare un bottone a qualcuno significa trattenere qualcuno con un discorso lungo e noioso quindi c'è una sfumatura leggermente diversa rispetto a quello che abbiamo appena visto quindi abbiamo visto due espressioni attaccare bottone con qualcuno e attaccare un bottone a qualcuno la differenza fondamentale è l'uso di questo articolo un perché conferisce alla frase quel significato diverso che abbiamo appena visto quindi attaccare bottone con qualcuno significa iniziare a parlare tentare un approccio a volte in base al contesto può voler dire anche un approccio sentimentale ma non per forza può anche trattarsi di qualcuno che semplicemente comincia una conversazione con voi in maniera spontanea se invece diciamo attaccare un bottone allora stiamo dicendo che il discorso che ci ha fatto quella persona che non è per forza una persona sconosciuta era comunque lungo e noioso andiamo avanti ma continuiamo a usare il bottone cosa succede nella stanza dei bottoni che cosa significa cosa intendiamo quando diciamo la stanza dei bottoni la stanza dei bambini il ripostiglio il luogo dove si prendono le decisioni importanti per aiutarvi a rispondere vi dico che ho inserito questa espressione perché troviamo la stessa parola ma in realtà è in un'accezione un po diversa in questo caso per bottone intendiamo i pulsanti i tasti di qualcosa quindi questo indizio dovrebbe farvi capire che per stanza dei bottoni si intende il luogo dove si prendono le decisioni importanti quindi quell'ufficio quel luogo segreto qualsiasi posto da cui si mandano degli ordini dei comandi attraverso dei pulsanti ovviamente può essere usata anche in maniera metaforica o molto ironica è il luogo dove si prendono le decisioni andiamo avanti con un verbo un verbo che componiamo insieme alla parola bottone mia figlia non si sbottona mai che cosa significa andare a dormire molto presto quindi mia figlia non va mai a dormire molto presto essere ossessionati dalla cura del corpo con creme prodotti vari aprirsi parlare sinceramente di sé quindi mia figlia non parla mai sinceramente non racconta mai che cosa le succede qual è la risposta giusta sbottonarsi significa aprirsi parlare sinceramente di sé quindi qualcuno che si sbottona attenzione alla forma riflessiva non parla mai troppo di se stesso quindi io mi sbottono tu ti sbottoni noi ci sbottoniamo andiamo avanti e cambiamo oggetto e passiamo alle maniche con cui formiamo delle espressioni molto interessanti e davvero usate nella vita di tutti i giorni allora vi ho fatto un doppio esempio perché questa espressione la possiamo usare in due forme diverse che hanno assolutamente lo stesso significato la prof è di manica larga con i voti e possiamo dire la stessa cosa anche dicendo la prof è larga di maniche con i voti che cosa fa questa prof se non conoscete la parola prof è l'abbreviazione di professoressa in questo caso oppure il prof è una parola che usano tutti gli studenti italiani essere di manica larga o essere largo di maniche significa essere avari non concedere mai niente in abbondanza essere in affidabili non avere un metodo e fare le cose a caso oppure essere generosi e concedere sempre le cose in abbondanza in abbondanza in abbondanza in abbondanza in questo caso stiamo parlando dei voti a scuola che cosa significa essere di manica larga o largo di maniche spero che abbiate indovinato se no avete soltanto imparato un'espressione nuova perché alla fine lo scopo è quello non indovinare subito essere di manica larga significa essere generosi concedere sempre le cose in abbondanza in questo caso abbiamo parlato di voti ma potevamo parlare anche di denaro o qualsiasi cosa una persona può concedere dare a un'altra persona essere di manica larga o essere largo di maniche è esattamente la stessa cosa andiamo avanti quindi queste lezioni sono tutto un altro paio di maniche che cosa significa essere tutto un altro paio di maniche essere completamente diverso di qualità molto inferiore quindi parliamo di un paragone tra due elementi tra due cose oppure essere completamente diverso ma di qualità molto superiore oppure si dice di qualcosa che ha un prezzo molto competitivo quindi molto basso molto abbordabile che cosa significa essere tutto un altro paio di maniche se c'è qualche mio follower molto affezionato probabilmente lo sa già perché ne abbiamo già parlato in un altro video quando abbiamo parlato dei modi di dire che è nata a Firenze e ve lo metto qui così lo potete guardare o se mi state guardando sugli altri canali social lo potete trovare sul mio canale YouTube essere tutto un altro paio di maniche significa essere completamente diverso rispetto a altre cose di qualità molto superiore perché si dice così perché in passato parliamo del rinascimento ad esempio era la moda era già molto importante ma non c'era la possibilità di avere anche per le persone più ricche per cambiare molti vestiti quindi ai vestiti più eleganti si cambiavano le maniche per cambiare il look o il colore o il tipo di tessuto quindi qualcosa che aveva un altro paio di maniche era qualcosa di più bello rispetto al precedente e ancora si dice essere tutto un altro paio di maniche qui abbiamo fatto l'esempio di queste lezioni ma avrei potuto parlare di un negozio di un cantante di qualsiasi cosa che ci piace di più che valutiamo migliore rispetto a un'altra cosa essere tutto un altro paio di maniche andiamo avanti perché domani dobbiamo rimboccarci le maniche qui abbiamo una prima persona plurale quindi rimboccarci l'espressione è rimboccarsi le maniche che significa impegnarsi a fare qualcosa è proprio il momento in cui si inizia un lavoro in cui decidiamo di impegnarci quel momento in cui tiriamo su le maniche è il verbo rimboccarsi le maniche è questo gesto una cosa molto curiosa è che nell'espressione idiomatica usiamo il verbo rimboccarsi se invece volessimo esprimere il gesto è molto più frequente usare un altro verbo che è un verbo sintagmatico che è il verbo tirare su io in questo momento mi sto tirando su le maniche o anche mi sto rimboccando le maniche ma nella testa di un madrelingua rimboccarsi le maniche richiama subito l'espressione idiomatica mentre tirarsi su le maniche è il gesto fisico andiamo avanti mi ha ricevuto in maniche di camicia quindi come si è presentata questa persona e cosa significa in maniche di camicia con un abbigliamento molto elegante con un abbigliamento informale non del tutto vestiti quando ancora ci si sta preparando quindi quel momento in cui siamo quasi pronti ma non del tutto pensate bene quando si sta in camicia significa che ci si è tolti la giacca quindi che cosa significa significa avere un abbigliamento informale si può dire essere in maniche di camicia o si può dire stare in maniche di camicia significa che ci si è tolti la giacca quell'elemento a volte che esprime tanta formalità nell'abbigliamento e si è un po' più rilassati perché si rimane solo in camicia a proposito nella prima lezione parliamo di tutte le espressioni che si formano con camicia o camice continuiamo la loro strategia mi preoccupa non capisco se hanno un asso nella manica che cosa significa l'asso nella manica è un difetto che si tiene nascosto un debito che non si vuole ripagare una mossa segreta e vincente che non si svela subito ma si tiene nascosta l'asso nella manica è una mossa segreta e vincente che non si svela subito ma si tiene nascosta quindi è un'espressione che possiamo usare con tanti verbi si può avere un asso nella manica si può tirare fuori un asso dalla manica si può nascondere un asso nella manica e ovviamente non stiamo parlando della carta infilata nella manica ma di una mossa segreta la mossa vincente la mossa strategica che non facciamo vedere ai nostri avversari fino a un certo momento della competizione che ovviamente è una competizione figurata si può trattare di tantissime occasioni situazioni diverse continuiamo e passiamo all'ultima parola di questa lezione che è tasca tasche anche con tasche costruiamo delle espressioni che sono veramente comunissime nella lingua di tutti i giorni come questa qui conosco Roma come le mie tasche che cosa significa? conoscere qualcosa come le proprie tasche significa conoscere benissimo qualcosa non conoscere per niente qualcosa credere di conoscere qualcosa ma accorgersi che non è vero conoscere qualcosa come le proprie tasche significa conoscere benissimo qualcosa fate attenzione quando create una frase a usare il giusto possessivo il giusto aggettivo possessivo perché io conosco qualcosa come le mie tasche tu conosci qualcosa come le tue tasche non so perché molti studenti si sbagliano con questo tipo di espressioni dove c'è un possessivo ovviamente nella forma neutrale usiamo propria proprie ma poi dobbiamo usare l'aggettivo possessivo giusto e mai insieme cioè non posso dire conosco Roma come le mie proprie tasche è troppo pesante un italiano non lo direbbe mai conosco Roma come le mie tasche continuiamo hai proprio le tasche bucate che cosa significa? non avere stile nel vestirsi spendere sempre tutto il denaro che sia a disposizione essere sempre arroganti se hai le tasche bucate significa che spendi sempre tutto il denaro che hai a disposizione e non riesci a risparmiare perché nelle tasche bucate ovviamente i soldi cadono subito molto spesso il concetto di tasca è associato al denaro che abbiamo con noi perché di solito i soldi si portano in tasca andiamo avanti perché ne ho davvero le tasche piene che cosa significa avere le tasche piene di qualcosa essere stufi di qualcosa avere sopportato abbastanza avere qualcosa in una quantità troppo abbondante non solo denaro anche altre cose avere ottenuto quello che si desiderava avere ottenuto il proprio scopo averne le tasche piene o avere le tasche piene di qualcosa significa essere stufi avere sopportato abbastanza ne ho le tasche piene è anche un modo molto elegante di evitare espressioni un po' più volgari averne le tasche piene continuiamo perché abbiamo ancora qualche espressione con le tasche per esempio questa il diploma ce l'ho già in tasca quando diciamo una cosa del genere quando parliamo di qualcosa dicendo di averlo già in tasca significa avere ottenuto qualcosa già da molto tempo quindi ce l'ho già da un sacco di tempo avere ottenuto qualcosa che non ci serve oppure essere sicuri di ottenere qualcosa che ancora in realtà non abbiamo ottenuto avere qualcosa già in tasca significa lo usiamo quando siamo sicuri di ottenere qualcosa che ancora in realtà non abbiamo ottenuto quindi nell'esempio il diploma ce l'ho già in tasca parla qualcuno che in realtà il diploma ancora non ce l'ha ma è sicuro di ottenerlo con molta facilità avere qualcosa già in tasca prossima espressione se volete partire con noi dovrete pagarvi l'hotel di tasca vostra che cosa significa di tasca propria con le proprie risorse economiche con le risorse economiche degli altri fare qualcosa senza in realtà avere abbastanza soldi quindi torniamo a quell'accezione di tasche con cui ci si riferisce al denaro e questa espressione significa con le proprie risorse economiche era abbastanza facile da intuire credo ricordatevi quello che abbiamo detto poco fa sul giusto aggettivo possessivo di tasca propria di tasca mia, di tasca tua, di tasca sua notate che per comporre correttamente questa espressione idiomatica mettiamo il possessivo dopo il sostantivo l'ho pagato di tasca mia non diciamo l'ho pagato di mia tasca l'ho pagato di tasca mia ultima espressione certe mete turistiche non sono per tutte le tasche che cosa significa per tutte le tasche? per persone VIP quindi certe mete turistiche non sono per i VIP con un prezzo accessibile a tutti quindi certe mete turistiche non hanno un prezzo accessibile a tutti oppure si dice di un posto troppo piccolo per la quantità di gente che di solito lo frequenta per esempio ci sono tantissime località turistiche italiane che sono sempre molto affollate anche se sono piccole ma qui che cosa vogliamo dire? se avete indovinato bravissimi se no adesso lo sapete dire perché una cosa che per tutte le tasche è economica quindi ha un prezzo accessibile a tutti perché torniamo a quel significato di tasca come contenitore dei nostri soldi bene siamo arrivati alla fine anche della terza lezione la fine per modo di dire perché vi ricordo che in maniera completamente gratuita potete andare su bestitalianclasses.com fare dei test su queste espressioni che sono fondamentali per memorizzare subito quello che avete appena imparato e potete anche scaricare le slide che io ho usato durante questo video e tenerle sempre con voi ci vediamo nella prossima lezione buono studio ciao 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 ciao